La situazione sta precipitando di giorno in giorno, perché purtroppo non abbiamo risposto. Quindi è una situazione abbastanza statica. Adesso abbiamo diversi appuntamenti la settimana prossima, tra cui lunedì c'è l'industriale e l'8 di sabbraio saremo a Roma, direzione del giudice economico. Per cercare di sbloccare la situazione, ma comunque vedere quale alternative sono possibili da mettere in campo. Non è tutto per evitare di perdere i posti di lavoro, o comunque per evitare di perdere il maggior numero di posti di lavoro, perché poi magari nel gruppo qualcuno deciderà volontariamente di andare via, questa è una scelta personale. È chiaro che ognuno è libero di fare ciò che crede più opportuno. La cosa principale è cercare di bloccare questa procedura di mobilità, che per noi diventa veramente un percorso a ostacoli, perché sbloccando questo poi di conseguenza si creano altre situazioni discutibili. Invece avendo questa barriera delle lettere di licenziamento di mobilità, è chiaro che qualsiasi tipo di discussione viene bloccata. Questa è la prima cosa. E poi valutare la possibilità di o reindustrializzare la zona, oppure, cosa molto difficile a fine oggi, cercare di convincere la Whirlpool a cambiare idea, è una cosa grossa. Diciamo a modificare l'idea, magari trovare una scappatoria per evitare lo spostamento della produzione, anzi, l'azzeramento della produzione, il conseguente spostamento. Questo è, diciamo, l'iter che verrà seguito. È chiaro che se noi riusciamo a sbloccare la situazione entro poche settimane, la cosa diventa più snella. Più avanti il tempo, più la cosa diventa densa, come quando uno deve fare il budino, diventa denso, poi lo riesce per girare. Quindi, poi diventa, da fluido diventa troppo densa e non se riesce a pregistire. Questa è la situazione. Adesso noi veniamo a lavorare lo stesso. Chiaro che la produzione non è, diciamo, totale, ma è parziale. E lo spirito è quello che è, perché purtroppo veniamo a lavorare con questa spada di grammo che è sulla testa, che potrebbe cadere da un momento all'altro o potrebbe essere tolta. Quindi lo spirito è un po' sotto i piedi. Ci arrangiamo a venire col pullman, non c'è la mensa, perché purtroppo hanno tolto, diciamo, tutti questi servizi che fino alla risposta c'erano, di conseguenza le maggiorazioni notturne, quindi tutto il gruppo che riguarda la contattazione di secondo livello. E quindi noi veniamo a lavorare con un po' di difficoltà, che non c'è la macchina, che non c'è la patente, chiede il passaggio, insomma, cerchiamo di arrangarsi. Questo magari potrebbe farsi unire di più. Ecco, da quel punto di vista lì. Poi, come sempre accade, la speranza è l'ultima a morire. Questo, naturalmente, non sappiamo nella testa loro cosa ci sia, dall'altra parte dell'oceano, che sia Brasile, che sia Stati Uniti, che sia quel che sia. Noi non sappiamo completamente la loro idea quale sia. Speriamo che sia uguale alla nostra. Cioè, di rimanere qua. Poi, non lo so, io purtroppo non ho potere decisionale. Questo è tutto. 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 Questo è tutto.